area 2 Pailunga Piero Lopretti Antonio The next match White Jordan Spartan Ireland Zumo Gabriel Italy Area 1 Mancari Danilo Dell'Issanti Alessandro Tatami 5 Now Scacchi Carol Fitzpatrick Trina Next match Tatami 5 Trova Lusci Federica Giornestad Nans Tatami 3 Get ready Bottezzato Unicone Pasqualetto Matteo Area 7 Adesso Leoni area Carefully Sideways Yes Area 7 And now Glovoi Robby Cardoni Luca Come on Lusci E qui il nostro Dobbiamo prendere Bottezzato Bottezzato Sideways Ready On Tatami 4 Alvar Avide Trinale In robots Gaspar sunlight Come on Letduz Come on Lusci Come on lusci Come on le Moving therefore Next match Arendu Whitesod Jordan Zumo Gabriele hes EstULL On Tatama What's最小 Boom Orange Stop Does Score cube Le All ready, Erickson Moulad, Mayor Dominic Aradou.